Poi arriva la fase B, continuo a guardare avanti perché mi dico, e mi dice Francesco, e mi dice mamma, e mi dice papà, guarda alla bellezza che hai dentro, guarda quanto la gente ti ama e ti è vicina, perché io poi ho manifestazioni d'affetto, continuo da parte delle persone, cioè io continuo a vivere come un bambino il fatto che mi fermino per fare un selfie, e mi dicono, ma quanta pazienza mi dicono hai, ma come faccio, perché mi sta arrivando amore in quel momento. Quindi te la godi? Sì, sì, te la vivi bene. Cioè è chiaro che, attenzione, noi esseri umani è giusto per noi passare attraverso una fase di cortocircuito, quello ci sta, perché siamo umani per questo, quella cosa ci deve fare, elaborare ancora una volta il percorso che stiamo facendo. molto spesso anche lo stare male ci dà nuove energie, è come se ci fa risorgere, come se ci fa ricrescere, ricominciamo, perché poi la vita è fatta da tanti colori, è fatta anche da queste negatività che sono condite dall'essere una persona di successo, cioè più tu cresci, più sei ammirato, sei guardato dalle persone, sei seguito da milioni di persone ed è normale che il vento sferza sempre più forte. Mi ricordo Vladimir Luxuri, eravamo insieme un po' di mesi fa, disse Vincenzo, ricorda, Vladimir che ne ha passate tante. L'ho intervistato. Quando ne ha passate, e che persona forte che è.